Ingredienti Dosi per 4 persone 400 grammi di carne magra di vitello 2 uova Pan grattato Olio Aceto Aglio Una cipolla Salvia Preparazione Preparate e cuocete le bistecchine impanate Soffriggete in altro olio la cipolla e l'aglio tagliati a fettine sottili Aggiungete qualche foglia intera di salvia Bagnate con aceto fino a cottura ultimata Disponete le fettine di carne su di un piatto di portata e versate la salsa Lasciate raffreddare e servite Il piatto pronto Buon appetito E'er uwomini Garminate con aceto